Prorogati i termini per il pagamento a rate dell'Atari, dopo qualche settimana dalle rassicurazioni da parte dell'assessore al bilancio Luciana Camizzi sulla possibilità di pagare l'Atari senza sanzioni aggiuntive, anche dopo i termini previsti per chi non aveva ricevuto in tempo gli avvisi, adesso vengono deliberate delle novità sempre in tema di tributi sui rifiuti. L'Aggiunta ha infatti deliberato le nuove scadenze, cioè il 22 agosto per la prima rata, 22 settembre per la seconda e 30 novembre per la terza. Nonostante avessimo avvisato che non ci sarebbero stati interessi di more e sanzioni, proprio per tranquillizzare la cittadinanza che avesse ricevuto in ritardo gli avvisi bonari, abbiamo prorogato le scadenze per chi volesse pagare ratealmente. Intanto sarà già possibile fino al 15 novembre presentare l'istanza per ottenere la riduzione nel limite massimo del 100% della parte variabile delle tariffe Tari per l'anno 2020, riservate alle utenze domestiche che sono in possesso di requisiti per il bonus sociale per elettricità e gas o ancora per il servizio idrico integrato. Abbiamo deliberato anche una delibera per le utenze disagiate, quindi per tutti coloro i quali fruiscono del bonus idrico, del bonus energetico, per coloro i quali hanno un ISEE fino a 12 mila euro o un ISEE per famiglia numerosa fino a 20 mila euro, sono per settori di reddito di cittadinanza. Da domani potranno presentare un'istanza o direttamente all'ufficio tributi o tramite email per chiedere l'agevolazione e la riduzione della parte variabile della Tari, quindi diciamo che andranno a pagare al massimo il 50% della Tari totale. Per chi l'avesse già pagata per intero verrà fatto il conguaio nell'anno successivo. L'ufficio è stato comunque riorganizzato, le attese si sono ridotte e questa poi è un'azione molto veloce perché ci sarà un'impiegata preposta che consegnerà un modulo alle persone che compileranno direttamente lì presso l'ufficio tributi e lo riconsegneranno. Altrimenti comodamente da casa lo possono scaricare per chi avesse un'email o una PEC, compilarlo e rispedirlo tramite email o PEC. Tutto verrà pubblicato sul sito del comune con tutte le informazioni e anche la modulistica da compilare.